Presento le persone che parleranno qui con me questa sera, sono Massimo Mazzone come portavoce di Escuela Moderna, Alessandro Zorzetto anche lui di Saledox, c'è una particolarità, noi siamo tutti uguali al sale come potete vedere, siamo tutti alti, magri con la barba, qualcuno nelle retrovie e dice non solo magri, va bene. Io passo immediatamente la parola a Massimo Mazzone perché questo progetto in qualche modo parte da te, sei tu il responsabile penale della genesi di tutto ciò e quindi insomma magari cominciamo a raccontare come ti è venuta l'idea e poi ci è venuta l'idea di collaborare. Penso che tu abbia un microfono, forse se vuoi usare quello. Sì, saluto Anarchia, grazie per l'ospitalità e scusate la mia voce che è veramente poca ma per fortuna abbiamo il microfono. Ora a me tocca, a me ateo, tocca essere un po' biblico no? Partire dalla genesi che è sempre la cosa più complicata però quella da cui si muovono delle cose. Noi abbiamo fatto come scuola moderna Ateneo Libertario dal 2009 o 2010 a Milano un festival internazionale delle arti che si chiamava Expolis dove tra maiuscole e minuscole come voi sapete nella grafica contemporanea c'era la parola Expo e c'era la parola Polis intesa come polizia. Quindi non la Polis, la città, ma questa idea di nettezza urbana, di pulire, di ordinare, di normare. E questo festival ha coinvolto molte istituzioni tra cui il Politecnico, l'Accademia Libreira, la Triennale, perfino lo Yulm, Roma 3, non so, ha avuto puntate in Argentina piuttosto che passaggi in Biennale a Venezia dove noi per molti anni abbiamo invitato la scuola di geografia di Bauman, quella di Leeds, abbiamo invitato i nostri amici di... abbiamo invitato Zorzetto, Luca Stasi, abbiamo invitato Emiliano Gandolfi con Capitation Strategies e veramente in un festival che è durato 4-5 anni, potete immaginare, adesso non mi ricordo tutti ma non vorrei dimenticare nessuno, ma è stata una cosa abbastanza incisiva per dire, non in coro, ma per dare la voce a tutti senza entrare nel comitato No Expo, perché già diventava legittimare l'Expo, riconoscerlo in qualche modo, andate a fare in culo per dire mille volte e altre mille che quando c'è una cosa che è una fregatura in mezzo o c'è la parola Italia, no? All'Italia, Forza Italia, Italicum, cioè quando c'è il richiamo al patriottismo c'è la fregatura, ormai è un simbolo automatico e dall'altro che le grandi opere, come è ampiamente dimostrato e riconosciuto da tutta la letteratura mondiale, sono il pretesto per delle grandi truffe, per dei grandi saccheggi. Quindi noi ci siamo adoperati, autofinanziati, semplicemente contando sulla simpatia che c'hanno quelli che non c'hanno niente, tranne qualcosa da dire, per dire in tutte le salse quali erano le criticità di una narrativa, di una narrativa scalare che ha portato a trasformare Milano in questa città di eventi, in questa città vetrina, partendo da un dato elementare. Milano ha perso dal 74 a oggi più di un milione e mezzo di abitanti, scendendo a un numero inferiore di residenti rispetto a quello che erano alla fine della seconda guerra mondiale. Quindi questa città che si racconta come città globale, come luogo di eventi, finisce la fiera di questo, comincia alla fiera di quell'altro. In realtà non c'è più gli abitanti, soprattutto non c'è gli indigeni, non c'è socialità, non c'è niente di quello che voi trovate in altre città come Venezia, come Roma, come Napoli, che è proprio la caratteristica quasi di una biodiversità culturale, cioè l'ancoraggio al territorio. L'ancoraggio al territorio a Milano ce l'hanno le multinazionali, non ce l'hanno i residenti, anche perché i residenti magari lavorano in qualche modo a Milano, ma non vivono lì. Si incontrano per clan, cioè i pugliesi incontrano i pugliesi, i romani ce l'hanno l'are, l'associazione romana espatriati e così via. E manca proprio la vita di quartiere, manca la vita reale, rimane una vita irreale e ben descritta da Baudrillard. Quando nel 2014 una importante casa editrice italiana che fa l'enciclopedia mi contatta per scrivere un pezzo contro l'Expo, ho iniziato un po' a riflettere. All'inizio pensavo che cercassero il mio omonimo, cioè un ingegnere messicano che si chiama Massimo Mazzone, che si occupa di infrastrutture e grandi opere, ho declinato l'invito dicendo, e l'ho mandato a lui, perché ogni tanto riceviamo lui la posta mia e io la sua. E loro hanno insistito, hanno detto, no no, proprio professore, vogliamo lei. Dico ma perché volete da me a pagamento un pezzo di qualunque numero di cartelle contro di voi, perché così sembriamo democratici. Io dico, bene, l'importante è sembrare democratici, no? E ho preso i soldi naturalmente e gli ho scritto un pezzo abbastanza divertente che si intitola Le fiere sono animali feroci? Perché poi l'Expo altro non è che una fiera. e in quell'occasione c'era una importante manifestazione con i compagni del Macao e abbiamo deciso di chiudere il festival nel 2014, quindi con un anno di anticipo rispetto all'Expo 2015. E abbiamo deciso, invece di andare in piazza a farci bastonare, abbiamo deciso di andarcene proprio da Milano. L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo annunciato ufficialmente e ce ne siamo andati a fare un'altra cosa che si chiama PIGS, che è questa, che è l'acronimo dei maiali, no? Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, raccogliendo interventi appunto di Sara Gonzales piuttosto che di Bifo, di Estop piuttosto che di altri e mettendo insieme una rassegna video che è stato un po' il passepartout per fare una serie di mostre che sono andate in centri sociali illegali, occupazioni ancora non legalizzate e contemporaneamente è andata in qualche museo, per esempio all'auditorium di Renzo Piano, piuttosto che al Santa Monica, in biblioteche storiche come la BOESG a Lisbona, piuttosto che alla Corauan Benitez a Barcellona, che è un monumento vivente, magari dopo lo raccontiamo al Nosotros Social Center di Atene. Ecco, quello che gli altri chiamano crisi, noi, gli anarchic, ma anche gli autonomi, insomma i compagni, lo chiamano capitalismo, cioè sono gli altri che lo chiamano crisi, a me risulta che i compagni lo chiamano capitalismo da un bel po' di lustri e decenni. E quindi noi abbiamo fatto questa operazione, sempre autofinanziata, sempre basata sull'appoggio mutuo, abbiamo trovato questo editore, ma nel frattempo noi che abbiamo il Saledox e Global Project ed altri, proprio nel link del nostro sito da tempi non sospetti, abbiamo elaborato con Marco e con gli altri un ragionamento che potesse scalare questo tema della crisi, perché mentre noi siamo in crisi qualcun altro guadagna, quindi la crisi di uno è sempre un buon affare per qualcun altro, però abbiamo tentato di scalarlo su un progetto più globale e appunto è venuto fuori spazi d'eccezione, partendo da questa analisi agambeniana, diciamo un giro del mondo in 80 progetti e quindi dentro ci sono cose molto poetiche, le case sugli alberi, piuttosto che una fossa all'interno della quale parlano Virno, Toninegri e altri. Ci sono però occupazioni, ci sono lavori di street art, ci sono lavori che ha fatto il Politecnico in Kenya, ci sono molti autori che poi abbiamo ritrovato nella Biennale di Venezia o nei padiglioni nazionali come nel caso di Luca Stasi o di Todo por la Praxis o nella mostra internazionale. Quindi diciamo che c'è stata questa convergenza culturale anticapitalista, una convergenza culturale non riformista di persone che pensano che ci si può rimboccare le maniche e provare a non sentirsi più solo subalterni ma a prendere la parola e prenderla nei luoghi istituzionali, cioè tutti. I luoghi istituzionali in primo luogo sono quelli occupati perché c'è un'emergenza abitativa e chi non occupa una casa perché non gli serve, ok, ma chi non si strangola per pagare un affitto o un mutuo forse deve guardarsi intorno e studiare un po' di più. E d'altro canto i luoghi istituzionali sono anche quelli dello Stato che esiste perché la società, cioè noi, permettiamo che esiste pagando le tasse e obbedendo alle leggi. Leggi che diventano via via più coercitive, più criminalizzanti come nel caso dell'articolo 5 del piano casa che vi invito a leggere entusiasmante, scritto da Lupi o dalla sua gang, firmato da Napolitano, che recita legge speciale per l'emergenza abitativa all'articolo 5, chiunque occupa qualunque cosa non ha la luce, l'acqua, il gas, la residenza, la scheda elettorale, quindi è una legge razziale, perché le prime persone che non hanno alternativa di residenza naturalmente sono gli immigrati e poi i poveri. Quindi c'è proprio una legge criminogena ispirata alla più lugubre tradizione, quella che va da Donoso Cortez a Carl Schmitt fino a Gunther Jacobs oggi e che fa parte di questa mentalità di governance, cioè l'importante è governare, governare un processo, non importa la partecipazione, non importa lo Stato, della società e delle persone non interessa a nessuno.